si tratta di un gruppo per lo più di artisti francesi attivo a parigi negli anni 90 dell'ottocento il nome nabì in ebraico profeti fu coniato in riferimento allo zelo missionario con cui questi artisti promossero gli insegnamenti di gauguin oltre che in pittura furono attivi nel design di poster vetrate e scenografie teatrali e nell'illustrazione di libri se rosier che aveva incontrato gauguin a ponta ben nel 1888 fu la forza guida del gruppo e con denis il suo principale teorico altri membri dei nabì furono bonnard melol prima che si dedicasse alla scultura ranson l'ungherese joseph ronet valoton villar e suo cognato kerk xavier russell mostre collettive si tenero tra il 1892 e il 1899 e in seguito i membri abbandonarono gradualmente il gruppo alcuni di loro portarono avanti idee dei nabì anche nel ventesimo secolo soprattutto se rosier e denis il cui lavoro rimase di spirito esoterico e legato ai loro credo religiosi questo gruppo di artisti fu attivo in francia a parigi la loro concezione dell'arte era essenzialmente simbolista movimento di cui vi ho già parlato questi artisti furono influenzati in particolare dall'uso espressivo del colore e dal disegno ritmico di gauguin se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando